Perchè arriva sempre in ritardo, Umberto, Tozzi? Come arriva sempre in ritardo? No dai! Come perché arriva sempre in ritardo? Non arriva, oggi è la prima volta che arriva in ritardo. Arriva sempre, non lo so. No, ha fatto un sacrificio enorme per venire a Bologna, per esserci anche lui in questa partita che è molto importante. Quindi bisogna apprezzarlo, ma stanotte ha lavorato tutta la notte, ha lavorato in sala di registrazione, e magari ha fatto un viaggio... Guarda, anche Daniele Scherame. Trova un po' l'ora, lo trova un po' l'ora. Vieni. Umberto, perché sei sempre in ritardo te? Ma perché mi becchi sempre tu quando sono in ritardo? Beccati in ritardo. Sembra una faccia nuova, sempre tu. Allora Gianni ha detto che tu sei... Gianni... Trova sempre le scuse più belle per me. Sì. Non dare letta alle provocazioni, eh. Umberto. E' venuto chi? Ha lavorato tutta la notte, non voleva mancare a questo appuntamento, sapeva... Tra l'altro è la mia prima volta a Bologna, perché loro sono stati due volte, ti ricordi? No, quell'altra volta non stavi bene. C'avevi dei problemi fisici. Quell'altra volta non avete lasciato un panchino. E oggi che succede? Eh, oggi sarà facile che risucceda. La verità Ma tutto è chiaro dentro me Non direi che c'è vita se Non avessi te Non vittori non vittori anche se E poi... La verità